ciao a tutti sono matteo ferrari pilota del campionato del mondo di moto e e tester di ducati superbike da fine 2019 abbiamo iniziato questo nuovo progetto 372 con virkos l'ho seguito interamente sin dall'inizio e sono veramente molto contento dei risultati perché abbiamo migliorato la sicurezza il comfort e soprattutto anche in galleria del vento abbiamo migliorato tantissimo le performance sono stati fatti dei dettagli anche come il grip sul ginocchio che comunque ti permette di sporgerti di più dalla moto senza senza scivolare quindi facendo meno fatica anche durante la frenata e in più tutte le spalline nuove anche le ginocchiere comunque ci hanno permesso di avere un fit migliore penso che per l'utente finale per tutti gli amanti delle moto questo qui sia un grosso passo in avanti perché comunque si riesce a fare meno fatica sulla moto quindi a divertirsi di più e soprattutto più insicurezza